Attrice importante del teatro italiano, inizia come filodrammatica divenendo attrice molto stimata e considerata tra le compagnie di questo genere, entra nel giro del grande teatro o in arte come si usava dire all'epoca nel 1887 con la compagnia di Giuseppe Pietriboni, successivamente diventa prima attrice nella compagnia Favi, dove si affermò con la trilogia di Dorina di Gerola Morrovetta, capocomica con Virgilio Talli di cui diventa la moglie assumendone anche il nome con Ettore Paladini per un paio d'anni, ottiene un vivo successo di pubblico e di critica con la parigina di Henri Beck, Milano, 1890, e nel padre di Augusta Strindberg, Teatro Valle Roma, 1893, ottiene il nome inditta con la tovagliari Carloni Talli Pezzinga presso la quale lavora anche, Aristide Baghetti e nel 1899 con la compagnia di Luigi Ferrati, ammirata interprete sia nel genere drammatico sia in quello comico, lavora in importanti compagnie, quali la Andola Egev, la Emanuele, la Garavaglia, la Ruggeri Borelli, successivamente si ritira dal teatro e insegna nella scuola di Eleonora Duse presso l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, fra i suoi tanti allievi anche la famosa attrice Kiki Palmer, Anna Magnani e tanti altri ancora, è attiva nel cinema dove, a partire dal 1913 quando esordisce in Quo Vadis, interpreta parti di secondo piano e di carattere in ben 92 film muti, specializzandosi soprattutto in ruoli di madre nobile e austera. Il suo ultimo film fu Consuelita di Roberto Roberti del 1925, dove recitò accanto a Francesca Bertini.